Buonasera, benvenuti alla terza edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Si è conclusa nel primo pomeriggio la prima udienza preliminare del processo per l'omicidio del piccolo Maxime, il bambino russo adottato dai coniugi Maravalle, soffocato nel sonno dal papà adottivo a luglio dello scorso anno, il servizio di Alfredo Primante. È stata rinviata al prossimo 24 novembre la prima udienza preliminare sulla vicenda della morte del piccolo Maxime. Il bimbo di origine russa ucciso dal padre adottivo Massimo Maravalle, tecnico informatico pescarese di 48 anni affetto da disturbo psicotico atipico, la notte tra il 17 e il 18 luglio dell'anno scorso, mentre il bambino dormiva nell'abitazione di via Petrarca. Nella prossima udienza il GUP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio affiderà l'incarico al perito Caterina Del Zingaro per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di alcuni imputati. È stato il PM Andrea Papalia a chiedere oggi di trascrivere le intercettazioni. Le parti non si sono opposte. Maravalle è accusato di omicidio, ma la perizia dello psichiatra Renato Ariatti ha stabilito che all'epoca dei fatti il tecnico informatico versava per infermità in condizioni di totale esclusione dalla capacità di intendere e volere. Maravalle dunque, secondo la legge, non è punibile, ma aspetta comunque al GUP formalizzare il proscioglimento. Maravalle è inoltre accusato assieme alla moglie Patrizia Silvestri e a due medici di falso in concorso, nello specifico, relativamente alla dichiarazione di disponibilità presentata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, all'adozione internazionale con contestuale richiesta di relativa idoneità, i coniugi avrebbero omesso di riferire e fornire notizie sui disturbi e sulla patologia psichiatrica di Maravalle. I due medici, secondo l'accusa, avrebbero invece attestato che il padre di Maxim era esente da difetti fisici e psichici, omettendo di rilevare l'esistenza di patologie. Massimo Maravalle attualmente è sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata. Ancora cronaca, si sono chiuse le indagini per l'accoltellamento avvenuto ieri notte a Silvia. È stato rintracciato nella sua abitazione dagli uomini della polizia di Atri un sessantenne di Silvia accusato di aver aggredito e accoltellato il 34enne a seguito di una lite per futili motivi fuori da un bar. Il presunto responsabile è stato denunciato alla procura della Repubblica di Terano per tentato omicidio. E ancora un altro caso di cronaca. Molto probabilmente resterà senza colpevole l'omicidio di Nicola Bucco, ucciso con quattro coltellate a Pescara il 14 novembre del 2012. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso, i familiari però si opporranno e continueranno a chiedere giustizia al servizio. Nessuna traccia, nessun colpevole. La procura di Pescara alza bandiera bianca e il PM titolare dell'indagine Gennaro Varone chiede l'archiviazione per il caso dell'omicidio di Nicola Bucco. 53enne pescarese ucciso nella sua abitazione di Via Lopardi il 14 novembre del 2012 con quattro coltellate. Un delitto perfetto dunque, che non ha lasciato margini a pigli agli inquirenti, anche se commesso in pieno giorno, nel primo pomeriggio, in una casa al piano terreno nel centro di Pescara, a pochi passi dalla via principale. Gli indizi non fanno le prove e la procura ha in mano solo i primi, troppo pochi per arrivare ad individuare il colpevole dell'omicidio. Nessuna immagine dalle telecamere di sorveglianza della zona, nessuna traccia di sangue di Bucco sul coltello sequestrato al primo degli indagati e sospettato dell'omicidio, nessun elemento dalla maxiconsulenza chiesta dalla procura per incrociare i rilievi della scientifica e i DNA degli indagati. Quello che adesso resta sul campo sono i tanti interrogativi senza risposta. Nicola Bucco potrebbe aver aperto al suo assassino perché lo conosceva? Il delitto è stato commesso d'impeto a seguito di una lite culminata con le ferite mortali alla gola, all'addome e alla guancia? Chi ha ucciso Nicola Bucco? Questi sono anche gli interrogativi che affollano la mente della sorella della vittima Sabrina, che ha presa la notizia della richiesta di archiviazione, ha commentato con un amaro «Dopo tutto questo tempo me l'aspettavo, ma noi abbiamo diritto a sapere chi ha ucciso mio fratello in quel modo». Per questo la famiglia ha già fatto sapere che si opporrà alla richiesta della procura di Pescara per lasciare il caso ancora aperto. Prosegue l'inchiesta civile sul crollo del pilone della corsia di emergenza dell'asse attrezzato. Il perito del tribunale avrebbe ravvisato responsabilità dell'ANAS, ma anche del comune di Pescara, il servizio di Paolo Renzetti. L'asse attrezzato ha riaperto, la situazione sta tornando alla normalità, però c'è un'inchiesta civile per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Il comune potrebbe essere anche parte lesa in questa vicenda e poi quali sono le novità? Nel momento in cui l'ACA ha chiamato in giudizio l'ANAS, si è cautelata costituendosi anche lei e anche il comune in questo giudizio. In più ha chiamato in causa anche l'assicurazione per eventuali risascimenti che dovessero derivare alle aziende lì presenti e alle infrastrutture che sono andate perse. Oggi c'è il deposito di una perizia da parte del CTU nominato dal tribunale che proprio adesso stavo tentando di leggere lunghe 90 pagine per comprendere di che cosa si tratta. Anche se la vocatura già ci ha messo al corrente che il CTU sembra adombrare responsabilità sia in capo all'ANAS, ente gestore della strada, e sia nei confronti del comune per un aspetto risalente alla progettazione dell'opera e quindi stiamo parlando degli anni 2000-2001. Molto probabilmente il consigliere Sospiri, che porta un nome importante, se avesse solo riflettuto su che cosa il CTU cita in questa relazione, molto probabilmente non avrebbe avuto questa brutta uscita e questa caduta di stile. Poiché quello che viene rimproverato al comune è la progettazione di quell'opera. Cosa dire? Ci attiveremo come comune, a prescindere dal colore politico, perché gli interessi della collettività siano salvaguardati. Ci attiveremo affinché chi ha subito danni sia risarcito, chi ha commesso errori risarcisca per gli errori che ha commesso. E si è svolta questa mattina presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara una conferenza stampa del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, per illustrare il significato della votazione di ieri al Parlamento europeo per l'inclusione dell'Abruzzo nelle reti di trasporto trasnazionali. TEN-T, il servizio. Noi attraverso l'emendamento votato ieri in seduta plenaria dal Parlamento europeo su nostra richiesta, finalmente possiamo contare di avere, dopo che abbiamo curato i progetti e attivato le procedure, la velocità e la comodità dei trasporti ferroviari e non solo. Cuciremo tutte le opportunità di mobilità che si rinvengono lungo la realtà abruzzese, molisana e pugliese. E finalmente avremo l'allungamento del corridoio che oggi si ferma ad Ancona e domani si porta fino a Pescara, a Foggia, a Bari e a Brindisi. Questo ci porterà benefici sul piano ferroviario. Per esempio sulla dorsale adriatica finalmente avremo un'offerta ferroviaria caratterizzata da comodità e da velocità. Ma stiamo lavorando anche sulla direttrice Pescara Roma. Tutto questo rientra ed è possibile poiché finalmente siamo presenti nella programmazione europea dei trasporti. Come un bersaglio da raggiungere, come un problema da risolvere. Per 23 anni mai nessuno aveva sollevato questione sul tema dell'assenza totale nella programmazione degli investimenti europei dei trasporti. Finalmente noi siamo presenti nella programmazione strategica comunitaria e nazionale. per questo lavoro che ha fatto l'Abruzzo andando in 15 mesi 24 volte a Bruxelles a spiegare le ragioni di questa comprensione, di questo coinvolgimento, di questa presenza, di questo allungamento. Sviluppo delle aree costiere grazie anche ai fondi europei e al prolungamento delle reti ma anche una programmazione di una serie di progetti che possano portare alla crescita infrastrutturale delle aree interne della regione. Va anche in questo senso la sottoscrizione dell'accordo di programma per sistemazione del tratto di strada denominato Cintarella che insiste nell'area del Marzicano. Dell'importante intervento di cui si è fatto carico la regione, ha parlato questa mattina il presidente della giunta Luciano D'Alfonso che ha illustrato l'iniziativa alla presenza delle autorità politiche locali. Sono stati infatti invitati il presidente della provincia dell'Aquila, De Crescentis, e i sindaci e amministratori dei comuni di Trasacco, San Benedetto dei Marzi, Ortucchio e Pescina. Era presente anche il presidente del consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Nell'occasione è stato firmato il documento che dà il via libera alla sistemazione dell'arteria marzicana. Ed ora invece i sindacati e i lavoratori della IC di Colonnella hanno manifestato questa mattina all'Aquila a sostegno di due lavoratori denunciati ingiustamente per diffamazione dall'azienda. Il servizio di Daniela Braccani. Hanno presidiato la sede della Corte d'Appello dell'Aquila i lavoratori dell'azienda IKK di Colonnella e i sindacalisti dell'Unione Sindacale di Base per sostenere la difesa di due lavoratori sindacalisti denunciati per diffamazione dall'azienda e per i quali oggi in aula era prevista l'udienza del processo. Diritti violati e democrazia sfregiata recita così lo slogan del volantino della compagine sindacale che descrive la situazione paradossale di un'azienda che da un lato mette in cassa integrazione dipendenti e dall'altra chiede ore di straordinario ai lavoratori. I due sindacalisti sono stati denunciati perché avevano sollecitato l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro. Il presidio davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila è per richiedere giustizia nei confronti di due sindacalisti dell'USB che nel 2009 avevano chiesto l'accertamento all'Ispettorato del Lavoro e di controllare se l'IKK utilizzasse correttamente la cassa integrazione. Perché diciamo questo? Perché mentre l'IKK richiedeva la cassa integrazione dall'altra parte faceva svolgere straordinari ai lavoratori e una modifica e potenziare l'utilizzo dei lavoratori nella produzione. Abbiamo semplicemente richiesto di far accertare dall'Ispettorato del Lavoro se questa cosa era corretta e l'azienda ha ritenuto opportuno denunciarci per diffamazione rispetto a questa richiesta di accertamento. Quindi siamo qui per chiedere la soluzione ai due sindacalisti che hanno prodotto questa richiesta di accertamento perché ci sembra illegittima, ingiusta e ingiustificata. Quindi giustizia chiediamo nei confronti di questi due lavoratori e che comunque si cercava anche da parte dell'azienda di limitare l'attività sindacale. Pugno di ferro da parte dell'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi verso chi abbandona i rifiuti in strada. Niente più appelli, ha detto il primo cittadino. Da oggi saranno elevate multe salate. Il servizio di Elisa Leuz. Pugno di ferro da parte dell'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi verso chi abbandona i rifiuti in strada. Niente più appelli, ha detto il primo cittadino. Da oggi saranno elevate multe salate. Questo è un nostro pallino vecchio che da quando siamo venuti qui abbiamo cercato di combattere l'abbandono indiscriminato dei rifiuti fuori dai luoghi che sono adatti a farlo. Vediamo nella città, spesso in tanti posti della città purtroppo questo abbandono indiscriminato di ingombrandi, di rifiuti ingombrandi. C'è gente che butta il materasso per strada, che butta un armadio per strada, il frigorifero o in posti che non sono adatti. Noi abbiamo attivato anche un centro di raccolta di questi materiali che è un centro dove si può gratuitamente portare. Nonostante ciò questo è continuato. Abbiamo fatto tanti appelli, ora è finito il momento di fare appelli. Abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione ultima in cui abbiamo avvertito tutti che ci saranno delle sanzioni molto pesanti e anche denunce dove non ricordano le condizioni per certe tipologie di rifiuti. È previsto il reato, è un reato penale, certi rifiuti abbandonati indiscriminatamente. Ove ricordano le condizioni agiremo in modo inflessibile. Ho dato disposizione al comando della Polizia Municipale di attivare dei servizi di pattugliamento anche notturni. Abbiamo posto dei cartelli nelle postazioni più sensibili e attiveremo anche un servizio di telecamere di modo che da individuare in maniera puntuale e precisa chi nonostante tutti i solleci, nonostante tutte le informazioni che abbiamo dato in questi anni continua indiscriminatamente a buttare rifiuti e quindi a costruire un'immagine negativa della città solo perché alcune persone continuano a non voler capire che ci sono delle regole da rispettare per vivere in un paese civile. Comincia una fase nuova. Il Presidente Centi commenta così la manovra regionale salva Isa. La nuova direttrice Luisa Preier incontra per la prima volta alla stampa il servizio di Antonella Calcagni. L'istituzione sinfonica abruzzese cambia marcia. Ha presentato il cartellone della stagione che prevede otto concerti soddisfatto il Presidente Antonio Centi che punta all'Europa. Oggi con questo provvedimento la Regione ha consentito e consente all'Isa sin da oggi di riprendere il proprio cammino che è naturalmente aperto alle nuove opportunità, alle nuove dimensioni. Ha cominciato a finanziamenti ulteriori del campo delle attività culturali da ricercare sul piano europeo, attività legate anche a ulteriori sponsorizzazioni, cioè tutto un mondo che noi apriamo ulteriormente con il fatto che siamo ritornati in pista. In questo senso la prospettiva è una prospettiva che non lascia tranquilli nella maniera più assoluta ma che ti dà il dinamismo necessario per immaginare il futuro. Otto i concerti in cartellone, compreso l'evento di Capodanno, un omaggio a Call Porter, focus sull'anno tostiano e tante novità con il coinvolgimento delle scuole e convenzioni in tutta la Regione. Ci sono i colleghi delle istituzioni musicali più importanti della Regione perché l'Isa vuole continuare ad essere sempre di più un centro vitale della programmazione regionale. Quindi saremo a Sulmona con Maria Caniglia e soprattutto abbiamo varato una nuova iniziativa proprio di profilo regionale per la valorizzazione del patrimonio musicale e artistico di concerto con il Polo Museale d'Abruzzo, la nostra SinfoniCard che dà accesso a tariffe ridotte su tutto il territorio regionale, a tutti i concerti della Sinfonica per un anno e al contempo anche accesso con tariffe ridotte a tutti i musei del Polo Museale. Ma stiamo stipulando convenzioni anche con gli operatori turistici, quindi con la Federal Berghi, Abruzzo Traveling e altre convenzioni si aggiungeranno proprio per potenziare l'efficacia dell'azione di promozione della Regione Abruzzo della nostra orchestra. Poi cominciamo, già oggi abbiamo un concerto per le scuole, più di sei plessi scolastici. Il Comune di Roseto degli Abruzzi, grazie al progetto di prevenzione offerto dalla struttura sanitaria Radiosanit ha presentato la campagna di prevenzione della scoliosi, il servizio. La scoliosi giovanile colpisce dal 12 al 21% dei bambini fra i 4 e i 10 anni, spesso con un inevitabile destino chirurgico. Oggi, grazie al progetto Prevenzione Scoliosi, iniziativa organizzata dalla struttura sanitaria Radiosanit in collaborazione con il Comune di Roseto degli Abruzzi, sarà favorita gratuitamente la diagnosi precoce della patologia attraverso una campagna di prevenzione che verrà attivata in tutte le scuole. Questo progetto nasce grazie alla Radiosanit, che è molto sensibile ai progetti di prevenzione. Si tratterà praticamente di una prevenzione di tipo primaria, cioè saranno individuati tramite una visita medica specialistica che verrà fatto praticamente un esame obiettivo completo per la scoliosi, per le deformità posturali del bambino e laddove saranno individuati dei bambini che hanno un inizio, proprio perché la fascia d'età tra i 8 e i 10 anni è quella dove iniziano le prime deformità della colonna, saranno individuati i bambini e verrà praticamente instaurato un progetto riabilitativo volto a poter fare in modo che si riduca la probabilità che questa patologia possa evolvere o addirittura laddove possibile poterla arrestare. Metteremo in atto una campagna pubblicitaria per far sì che le famiglie possano mettersi direttamente in contatto con la struttura Radiosanit, che ringrazio. Confidiamo nella possibilità di fare altri progetti simili e faccio un'apertura a tutti coloro che possano essere di aiuto per fare campagne di prevenzione di questo genere. Quindi massima apertura da parte dell'amministrazione comunale e confidiamo nel fatto che ci possano essere altre situazioni da sviluppare. Penso ad esempio a problematiche legate ai denti e ad altre cose di questo genere. Quindi siamo aperti veramente a tutti e confidiamo nella riuscita di questo progetto. Sabato 31 ottobre all'Aurum di Pescara si svolgerà il BIENZ, la giornata dedicata ai creativi di tutto il mondo che per un giorno si troveranno insieme per esplorare e far conoscere il mondo dell'arte declinato in tutte le forme della tecnologia al servizio. Pescara capitale della creatività per un giorno. L'occasione è il BIENZ, considerata la più grande piattaforma al mondo dei creativi, dove si trovano in rete e conta più di 8 milioni di iscritti. Ad ospitare l'importante evento sarà la splendida cornice dell'Aurum di Pescara il prossimo 31 ottobre. Siamo felicissimi che BIENZ abbia appunto riconfermato Pescara come capitale del centro-sud Italia per far avvenire questo incontro e la cosa ci riempie di gioia perché in questa maniera qua Pescara diventa sicuramente una città conosciuta a livello internazionale. Teniamo conto per esempio che altri sedi di BIENZ sono New York, sono Caracas. Fotografia, design, 3D motion, le declinazioni sono infinite. Quest'anno tra le novità ci saranno grandi nomi del mercato internazionale e la partecipazione degli studenti abruzzesi. Grandissima novità è il fatto che quest'anno avremo tra gli ospiti Gerald Kutz che è il vicepresidente mondiale di Adidas Football Design e poi Ruflus Dechler che invece è il portavoce internazionale del pacchetto Adobe. Altra novità interessante è sicuramente il fatto che tutte le scuole post superiori di Pescara hanno deciso di aderire all'iniziativa. E soprattutto, grande accento alla formazione, perché il pomeriggio abbiamo deciso di dedicare le nostre attività a dei workshop di altissimo livello con esperti del sole 24 ore e con fotografi che sono diventati famosissimi a livello internazionale ma che sono originari proprio di Pescara. Il Castello di Nocciano è la terza sede espositiva della 28esima Bienale d'Arte Contemporanea di Penne Nocciano pronta ad accogliere i visitatori richiamati dall'arte e dalle novità di Nadart, il network Adriatico Arti. In esposizione una bella rappresentazione della cultura italiana con molti degli artisti in mostra presenti contemporaneamente in diverse mostre internazionali e nelle più importanti fiere dell'arte con le loro gallerie. I prossimi appuntamenti della 28esima Biennale d'Arte Contemporanea di Penne Nocciano sono domani, venerdì 30 ottobre alle ore 16 per una visita guidata delle mostre di Penne sono tre le mostre della 28esima Biennale Our Generation la pittura emergente in Italia dal 17 ottobre all'8 novembre 2015 nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Penne e poi dall'idea all'azione il video come evoluzione dinamica del segno dal 17 ottobre all'8 novembre 2015 al Museo di Arte Moderna e Contemporanea Mamec di Penne e poi dall'idea all'azione e il segno come progetto opera dal 25 ottobre al 15 novembre 2015 nelle sale espositivo del Museo delle Arti di Nocciano. Il 31 ottobre presso la Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo si terrà un convegno nazionale per ricordare la SPI, la Società Psicoanalitica Italiana e il servizio. Un convegno di respiro nazionale celebrerà a Teramo i primi 90 anni della Società Psicoanalitica Italiana. La scelta del luogo per ricordare questo importante avvenimento scientifico non è stata casuale. La SPI infatti nacque proprio a Teramo fondata il 7 giugno del 1925 da un gruppo di medici e psichiatri radunati intorno a Marco Levi Bianchini allora direttore del manicomio Teramano la più importante struttura psichiatrica dell'Italia centro-meridionale di quell'epoca. Uno dei più grandi manicomi ospedali psichiatrici del centro-sud con una storia sicuramente importante che speriamo si possa concludere con una ristrutturazione e una destinazione d'uso adeguata di questo enorme complesso che si sta deteriorando giorno dopo giorno. L'appuntamento con il convegno come si inserisce con la città di Teramo? Io credo che sia un dovuto riconoscimento alla città di Teramo perché in realtà la società è nata a Teramo e finalmente era già stata riconosciuta dopo il convegno del 1995 è venuta a Teramo quindi da allora Teramo viene considerata la sede della nascita della società italiana di psicoanalisi ma questa celebrazione dei 90 anni ha una dimensione ancora globale perché la città di Teramo gira in tutto il web in tutto il mondo perché le varie società psicoanalitiche e la società psicoanalitica internazionale stanno dando risalto a questo evento quindi è un grande onore per Teramo ma è un giusto riconoscimento per Teramo. La psicoanalisi è nata grazie al lavoro di Sigmund Freud in Italia è stata fondata la società psicoanalitica italiana il 7 giugno del 1925 a Teramo in Abruzzo grazie al lavoro del professor Marco Levi Bianchini che sebbene non fosse uno psicoanalista perché il primo psicoanalista italiano è stato Edoardo Weiss un medico triestino insieme a Weiss Levi Bianchini chiese a Freud se poteva fondare la società psicoanalitica italiana e quindi quest'anno ricorrono i 90 anni dalla fondazione. L'Aquila saluta il giovane morto a soli 39 anni aveva recitato nella pellicola del 1999 di Riccardo Dilani La guerra degli Antò vediamo L'Aquila piange e saluta oggi Danilo Mastracci scomparso a soli 39 anni Danilo all'Aquila era conosciuto come Antolo Zombie aveva recitato infatti nella fortunata pellicola uscita nel 1999 di Riccardo Milani La guerra degli Antò e divenuta un cult per un'intera generazione La guerra degli Antò raccontava la storia di quattro punk di Montesilvano stanchi della loro vita di provincia Danilo Mastracci aveva interpretato il ruolo di Antonio Di Cicco porta lettere alle poste di Pianella Antolo Zombie La notizia della sua morte si è subito diffusa nella città dell'Aquila tutti gli amici lo hanno voluto ricordare attraverso la sua pagina Facebook postando le scene più significative di quel film Un ragazzo mite e silenzioso un ragazzo brillante che oggi lavorava in un call center i suoi problemi di salute hanno interrotto purtroppo la sua giovane vita troppo presto Ora apriamo la pagina dello sport l'Assemblea dei Soci del Pescara ha voltato pagina dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Danilo Iannascoli che aveva ufficializzato due giorni fa il suo passo indietro nel corso dell'Assemblea di ieri si è provveduta all'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2015 con una perdita di poco superiore ai 4 milioni e mezzo di ieri la passività comprende però la quota d'ammortamento del parco giocatori assente l'AD di missionario rappresentato dai suoi legali nella seduta di ieri sono state rinnovate le cariche con Daniele Sebastiani confermato presidente e Gabriele Bancoschi vice entra nel CDA della società adriatica Roberto Druda uomo di fiducia del socio sudamericano Victor Mesa che conta il 10% delle quote e ancora parliamo di Pescara dopo una due giorni caratterizzata dalle beghe societarie culminate con le dimissioni dell'adriatico Iannascoli e con il rinnovo delle cariche si torna a pensare al calcio giocato sabato all'adriatico c'è la capolista Crotone il servizio sto avendo più continuità pure nel giocare la squadra è forte quindi mi dà una mano sia a me che quando vado in campo riesco magari a avere quella continuità che non avevo prima davanti più sono vicino alla porta meglio è per me l'ha visto anche il mister, l'ha notato dall'esterno facevo più fatica perché magari dovevo coprire tutta la faccia e non riuscivo magari a arrivare lì davanti con lucidità ma questo è grazie al mister che dall'altro anno mi ha sempre spronato e quindi devo ringraziare lui ma devo continuare su questa strada ho sbagliato gli anni scorsi a non segnare molti più gol ecco non mi devo fermare qui come ho già detto perché sicuramente quest'anno potrei fare molto di più e vorrei come ho già detto inizio anno arrivare in doppia cifra ecco quindi più gioco davanti e meglio è per me ma noi dobbiamo andare in campo sapendo che siamo forti dobbiamo fare la partita noi anche se sono sopra sono primi loro non dobbiamo avere paura perché abbiamo già dimostrato col Cagliari e altre partite che ce la possiamo giocare con chiunque è fondamentale far bene Sabba e dare continuità ai risultati che adesso stanno arrivando ora invece andiamo in Lega Pro prima vittoria stagionale lontano dal Bonolis per i Biancorossi andati a vincere in terra di Romagna un successo che fa classifica e morale il servizio di Andrea Costantini prima vittoria in trasferta e di conseguenza primi punti lontano dal Bonolis per il Teramo che spugna Sant'Arcangelo per 1 a 2 è andata come lo scorso anno con i Biancorossi prima in svantaggio ma poi capaci di ribaltare il risultato a conti fatti ancora Mirko Petrella un gol ed un assist l'uomo partita Vivarini mette dentro l'undici previsto con Di Paolo Antonio in regia e la coppia Moreo Petrella in avanti Out Amadio squalificato e Cecchini che ha problemi alla caviglia sul fronte romagnolo l'allenatore Zauli preferisce il match winner con la lucchese Venitucci nel ruolo di trequartista a Margiotta che finisce in panchina l'avvio del Teramo è in sordina i romagnoli in ripartenza fanno davvero male peraltro con grande facilità al decimo la conclusione di Venitucci è centrale all'undicesimo Devena sdraia con una finta di Paolo Antonio e tira da fuori Tonti respinge a mani aperte al quattordicesimo Tonti esce su Devena lanciato a rete da una fiondata di Peterman il gol è nell'aria al ventesimo i romagnoli passano in vantaggio Ilari suggerisce in profondità per Guidone che viene rimuntato da dietro ma fallosamente da Altobello il quale viene anche ammonito il rigore sembra netto dagli 11 metri va all'ex teatino Marco Guidone che si fa ipnotizzare da Tonti ma è lo stesso Guidone a raccogliere la respinta dell'estremo Teramano e a insaccare il gol del vantaggio del Sant'Arcangelo fatto il gol la compagine di casa si tira indietro il Teramo pian piano si ridesta senza fare però granché al ventitresimo il terro cross di Dorazio è respinto da Nardi poi al trentaduesimo una bella conclusione a giro di Petrella viene bloccata dall'estremo difensor di casa al quarantaquattresimo arriva il gol del pareggio del Teramo gran merito di Dorazio che va via sulla sinistra e pennella un cross con il sinistro per il più piccolo di tutti Mirko Petrella che anticipa il diretto rivale è in sacca alle spalle di Nardi quarto gol in campionato per il furetto di Pratola Peligna e su questa azione si va all'intervallo ad inizio ripresa il Teramo trova subito il gol partita il quinto minuto Petrella va via sulla sinistra e mette in mezzo per Moreo che riesce a incrociare molto bene la conclusione con il sinistro non lascia scampo al portiere di casa Nardi dopo soli due minuti Petrella dovrà lasciare il campo per un affaticamento muscolare al suo posto le noci all'ottavo c'è già la palla per il terzo gol per il Teramo con Moreo che va in alto sul cross di Scipioni ma incorna centralmente al nono reagisce il Sant'Arcangelo quinta valla serve Guidone che sbaglia davanti a Tonti ma l'occasione migliore il Sant'Arcangelo ce l'ha al quattordicesimo cross di Venitucci colpo di testa di Guidone che centra la traversa da questo momento però il Teramo riesce a blindare la difesa e non concede più nulla agli avversari limitandosi appunto a controllare la situazione il Teramo stesso non riuscirà però a rendersi pericoloso di rimessa si succedono i cambi ma non c'è nient'altro da segnalare se non i ben sette minuti di recupero concessi dall'arbitro Maggioni di Lecco ma al termine del quale il Teramo può festeggiare la prima vittoria esterna stagionale e la classifica comincia ad assumere altri connotati L'imprenditore Eliseo Iannini torna con il suo logo nel retro maglia come top sponsor era stato presidente del sodalizio rosso-blu agli inizi del 2000 prima del fallimento vediamo a distanza di oltre 10 anni l'imprenditore aquilano Eliseo Iannini torna nell'Aquila Calcio il logo Iannini Costruzioni sarà infatti inserito nel retro delle maglie da gioco come top sponsor si tratta di un ritorno di fiamma per l'imprenditore aquilano già presidente del sodalizio rosso-blu nella stagione 2003-2004 prima del sanguinoso fallimento societario soddisfatta la dirigenza aquilana in particolare la presidente Corrado Chiodi e la sua vice Massimo Mancini che da tempo avevano espresso il desiderio di avvicinare Iannini al nuovo corso rosso-blu resta da capire se questo sia solo il primo step verso un futuro inserimento stabile all'interno della società come socio della compagine E con lo sport si conclude l'appuntamento con l'informazione del TG6 che tornerà domani nella prima edizione alle ore 14 buonanotte a l'inferno che tornerà l'inferno Grazie a tutti.